musica questo è un nuovo video da Evertbrothers io sono Jugos e caccomè apparece Herox Creeper bella ragaaaa qua siamo su un nuovo episodio di Portal 2 no siamo su Unfar no ma dove siamo qua Herox? siamo su Bro versus Bro si ok abbiamo trovato questa mappa che si chiama solitude solitude e abbiamo deciso di continuare continuare qua Bro vs Bro perchè quell'altra si è un po' palloso esatto oh cazzo e iniziamo bene si spesso cambieremo di nuovo mappa e quindi cos'è no? non so cosa ho toccato e non so perchè lagge lagge allora qua abbiamo messo dei leti e una regola che quando moriamo spawniamo sempre qua non dormiremo negli altri leti eccetera eccetera questa è una regola principale fondamentale si e per Herox un'altra regola non fa accade niente della mappa lo sto già facendo lo sto già facendo oh una torta ah ma abbiamo già cominciato certo devi dire bastardo no non te lo meriti come facciamo scendere? io sono già sceso si tu sei un bastardo sono sceso alla mia maniera no comunque c'è un attimo prima cazzeggiamo facciamo quello che vuoi stammi lontano tu mmm interessante tun 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 tanto messaggi che arrivano a gogo a mia madre mmm ciao no a me è lagga lagga no ora mi dovete spiegare come ha fatto l'npc a salire qua perchè dove è salito? è uscito da una porta volevo andare cioè volevo entrare qua e vedevo una cosa grande non so come ha fatto salire pfff eh ah una piccola pecca di questa mappa sai cos'è? mh? che mi sono appena accorto che non ci sono non c'è pietra a meno che dalla mappa la mappa è bugata cioè non è finita molto bene e già sento che questa mappa non durerà molto si infatti e no credo che proprio la sua integrità non durerà mappa tanto ok allora hm torno comunque torno la testa che sto usando ora si chiama fateful fateful link nella descrizione quindi non rompetemi le parole nei commenti ah ecco proprio diretto al massimo ma si ma si intanto questo è già la corsia sonero questa è bella a tutti ragazzi mmm non sei in salute non sei in vai yeah perchè noi siamo gli abeduboded si si stiamo qua chi non l'avesse capito link nella descrizione presto arriverà anche un episodio di test drive limited 2 di nuovo eh ero contento che quella serie fosse finita no sto scherzando come? eh non ho detto niente stavo scherzando lo sai che ti voglio bene già ottimo intanto io qua oh ca... che c'è? niente niente l'hai visto? l'hai visto? no 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 io non ti vedo mai lo sai meglio di me oh interessante oh mio dio no 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 cosa? sono stato alla nobba dove ci sono un mucchio di morte ah l'hai visto anche te anch'io sono finito in quel posto malsano come faccio uscire? no no io la prima volta che mi è capitato sono morto dunque boh a te la scelta perché sono finito qua mai scavare verso il basso oh uno sento qualcuno che spacca si si mmm che cazzo vuoi mi fare? io a fila tezza uno no puttana a fila tezza uno come hai fatto poi? eh 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 sono veloci io che ti pensi? ecco aspetta c'è non è che hai preso tante cose da qua no 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 porta everywhere cosa? cazzo dai esci sono bloccato oh mi vedi? bastardo sono bloccato aiuto non scappare con la mia spada bastardo è la mia spada quella tu ti facco subito io ecco allora già qualsiasi l'ho visto l'ho visto eccolo eccolo oh mio dio oh no un giro pazzesco cosa? ecco io ho già strada senza uscita ma vaffanculo zombie ho perso già qualsiasi ah eccolo cazzo no non va bene mi devo preparare mi devo preparare non va bene quella stupida spada filetezza 1 quanto ti odio perchè ti ho perchè ti ho fatto perchè ti ho procreato non ha senso che ne dita ragazzi se mettiamo un counter o no? si si ci sto no no peggio per me perchè devo editare sempre si si edita ormai l'ha detto ragazzi l'ha detto ormai se la prende nel culetto ok mi devo bastardo però non vale sei un cazzone ok un cazzone bello grosso tutte le porte senza uscita ma ne hai visto? si è una cosa allucinante e sdrogheggiante allora cioè guarda qua ragazzi guardate no no presto cambieremo cambieremo ma perchè quando l'abbiamo scaricato non l'abbiamo neanche visto già diciamo oh mio addio no no devi mangiare tu mangi sempre stranamente stavo dicendo quando come si è riempito così veloce comunque quando abbiamo scaricato la mappa non l'abbiamo nevisto neanche questa questa mappa non ha senso quello che stai dicendo lo so se abbiamo cominciato l'episodio così cazzo se io ho paura che jaguar mi spunti dal dietro e mi faccia un fusion da di quelle belle potenti no 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 ma come hai fatto poi tutte quelle esperienze dove le hai trovate? eeeh sono andato anch'io sotto ma... oh mio dio c'è il vilico che mi vuole scambiare la roba è vero che stiamo in 1.3 euro troppi 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 diciamo di aver trovato un rifugio un rifugio non c'è nulla che ti possa tenere lontano da me more spade more spade more spade a me mi serve una more torta more torta ok non implodere ecco è imploso torta sdrogheggiante vieni a me ok eh si fuck off fuck all fuck mamma di jag si si fuck off non ha senso ho un maiale ho trovato un altro posto che ti piacerà ok devo rifarmi un'altra spada mi sa che ne ne me ne serve mmm cosa mmm non mi sta bene no 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 me ne devo andare io di qua c'è jaguards che mi spia c'è jaguards che mi spia il filico mi chiede niente per cinque frecce come niente per cinque frecce mh eh le puoi prendere allora no 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 era buggato sempre tutto buggato inutile minecraft oh mio dio tutto è buggato qua non serve a un cazzo ok ah eccolo merda no si pigmen pig everywhere stavolta sarà la mia ribalta quante? mh interessante voglio anch'io le porkchump sono gustose ne ho 17 come 17? si dov'è che stai facendo tutte quelle porkchump? mh non mi va bene non mi sta bene jaguard devi dirmi la tua posizione intanto qua c'è un cifro di roba scandalosa mh nulla che mi interessi aia dove andremo ora? dove andremo ora? cioè questa è una mappa non finita si è in alfa proprio l'alfa alfa o sbaglio una di quelle una di quelle alfa io mi sento troppo osservato comunque oh diamante oh cazzo no affilatezza ti sta nel culo se non ce l'avevo sarei morto no ma dove trovi tutta quella esperienza ammazzo i mostri tre mostri equivale a un coso di esperienza mi sento un po' uo oh bistecche jaguards tenevi troppe bistecche con te oh affilatezza vieni qui baby il lag mi ha prevalso una vittoria eeeh ps non possiamo prendere il diamante eh te lo dico eeeh ps per te no ps per tutti e due per te no non puoi domani così ah ok ah è vero giusto me ne ero dimenticato oh qua c'è qua c'è una pallina di qualcosa tra l'altro qua non possiamo farci roba sento un tu muori ti facco mamma cioè come hai fatto a trovarmi eh? come hai fatto a trovarmi ti vedevo ti vedevo il nome la mappa è piccola te ti giri indietro poco oh no non hai che hai la minimappa no non ho la minimappa potrei vederlo benissimo anche dal video perchè tutte queste cazzo di case sono vuote non ha senso vero che tu hai faithful si faithful bravo è quella che mi ha dato una mano avevo visto avevo visto robe bugate ho lice un enderman e per quello che ha detto il bug mi ha salvato la vita il bug mi ha salvato la vita si è detto fuck off dai che arrivano tutti i mostri ora i mostri everywhere mostri troll troll intanto sento sento un cifro di mostri io non va bene io sento tanti movimenti nanananan sento tanti movimenti nanananan sospetti nanananan oh mio dio allora devo uccidere dei cosi dei cosi? cosa intendete con i cosi? oh mio dio va via va via creatura informe aspetta un attimo faccio una scala io ormai sono arrivato per me ti fa ti fa una fetfulata allora allora aspetta un attimo aspetta cosa hai fatto? mi si ero per la spada interessante ciao giog ciao ahhh bastardo oh cazzo dai mi stavo preparando ti ho lasciato anche la carità ok ragazzi finiamo qua con questo episodio aspetta l'ultima kill l'ultima kill sono vogliosa di uccisioni già ok se lo voglio na 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 uff non vuole ho una spada in diamante non la prendo eh vabbè finiamo con questo episodio spero che vi sia piaciuto ah cazzo se mi piaciuto mettetemi piace commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto quindi noi ci vediamo in un prossimo video ciao giog ciao a tutti bella